Ciao a tutti, oggi sono qui per parlarvi di un disco un po' datato, diciamo così, del 1986 ed è A Kind of Magic Day Queen. Quest'edizione, se non ricordo male, non lo trovo scritto da nessuna parte, ma è una sorta di ristampa, senza una sorta, è una ristampa della Hollywood Records con dei bonus tracks, con delle bonus tracks rispetto all'edizione originale. Vabbè, andiamo a guardare la... Quante erano semplici i cd vecchi stampati vent'anni fa? Semplicemente la grafica, le scritte sopra il disco, il disco vergine. Questo è il libretto che, devo essere sincero, non ricordo molto. Ah, adesso non ricordo perfettamente, era un grande patito Day Queen, quindi sono un gruppo che mi ha fatto crescere tanto musicalmente, che mi ha introdotto alla musica, diciamo, che ascolto adesso. Hanno svolto una parte fondamentale. Questo è il bel libretto di A Kind of Magic con tutti i testi scritti bianco su nero e con qualche foto. Questo disco è una sorta di colonna sonora di Highlander. Conoscete il film con... come si chiama l'attore francese? Christopher Lambert e Sean Connery. Tra l'altro film bellissimo ai tempi, secondo me, ma che rivisto adesso è invecchiato male, perché ci sono degli effetti speciali che allora avevano senso, anzi erano anche gradevoli da vedere, ma adesso proprio sono invecchiati malissimo. Vabbè, non siamo qui per parlare del film, ma siamo qui per parlare di A Kind of Magic, che è il terz'ultimo album dei Queen, che portò a Live Magic, a Live at Wembley, eccetera eccetera. Questo è un disco, uno dei dischi migliori della carriera dei Queen, secondo me, seppur con una svolta al pop. Qui c'è un po' di tutto in realtà, c'è un po' di pop. Ah, ma ho aperto la parentesi, come al solito non l'ho chiusa. Dicevo che è una sorta di colonna sonora, perché c'erano un sacco di canzoni che fanno parte di quel film di Highlander, come One Year of Love, Who wants to live forever, Give me the prize, Don't lose your head, Princess of the Universe, se ricordo bene, A Kind of Magic, perché è una battuta del film. Però pensi che non c'entrano un cacchio come Penny So Close to Pleasure o One Vision, che faceva la colonna sonora a un film che si chiamava Eagle o qualcosa. Quindi, insomma, una sorta di colonna sonora. E dicevo che c'è un po' di tutto, c'è l'anima pop dei Queen della seconda parte di carriera, tra l'altro bellissima la copertina, con le loro caricature, così, a cartone animati. C'è l'anima un po' più pop e tara di Freddy, con Penny So Close to Pleasure, una canzone che per me è una skip track assoluta, perché smorza tutto l'entusiasmo del disco, per quanto mi riguarda. O pezzi molto rock come One Vision, come Give me the prize, Don't lose your head, per quanto abbia dei suoni un po' poco rock per alcune cose. O Princess of the Universe, che è uno dei miei preferiti del disco. Qui come hit ce ne sono un sacco, perché oltre alla cittata Gang of Magic, One Vision, c'è anche Who wants to live forever, che è una canzone stupenda, una canzone epica, dove con tre note di assolo Brian May demolisce tutto, proprio quando fai le note giuste al momento giusto. Come voto metto un 83 centesimi, perché proprio Penny So Close to Pleasure non lo sopporto, proprio mi smorza tutti gli entusiasmi, non l'ho mai capito. Perché avete messo questa canzone? Perché? Se incontrerò Brian May qualche giorno a Londra, glielo chiedo, ma perché cacchio avete messo questa? Quante canzoni erano? Erano 9 canzoni, certo sono un po' pochine, però andava tolta. Canzoni preferite per il resto sono veramente tutte belle. Metto Princess of the Universe, metto Wants to Live Forever per le famose tre note di Brian May, metto anche One Vision. Questo disco sarà un grossissimo successo commerciale, magari non apprezzatissimo dai fan di vecchia data dei Queen, però grandissimo disco da avercene dischi così oggi. Questi sono gli Immortali Queen e questo è Kind of Magic, consigliatissimo a Cattataville. Ciao, alla prossima!